Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale tra un furgone e un fuoristrada verificatosi nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 189 nei pressi del bivio di Aragona. Ancora tutta da chiarire la dinamica del sinistro, l'unico dato emerso finora è che si tratta di un impatto frontale. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri di Canicattinzie ma la polizia municipale di Aragona intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Agrigento e ai soccorritori del 118. Due dei feriti sono stati trasferiti all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento mentre la situazione della terza persona coinvolta nel sinistro è sembrata un po' più delicata tanto che si è reso necessario il trasporto all'ospedale Sant'Elia di Caltanissette in elicottero. Questo perché il ferito era rimasto incastrato tra le ramiere del guardrail a seguito dell'impatto tra i veicoli ma stando alle prime informazioni nessuno dei tre è in pericolo di vita. Grazie a tutti.